Soldato! Qui! Ho visto la tua capsula! Hai una fortuna sfacciata! Ne hai vista cadere altre? Negativo! Anche se quel lampo mi aveva quasi acceccato! Devo andare! Te la caverai? Sì! Ascolta, alcuni di questi edifici sono accessibili! Potresti entrarci e attaccare i lati Covenant sulle strade! Ho capito! Grazie! Vai! Ce la caveremo! Non pensare a noi, sergente! Muoviti! Ho attivato il segnalatore! Doveresti vederlo sul tuo visor! Usa la mappa sul tuo visor per raggiungere la mia posizione! Zona scuola! Per favore, rallentare! Cosa diavolo è successo qui? Ultimo avviso! Fattura scaduta! Dannata torretta! Una granata dovrebbe bastare! Veronica, perché questi elite morti? Che intendi? Sembra una guerra intestina, come se fossero stati uccisi dai Brut! C'è qualcosa che devo sapere? È riservato! Beh, come al solito! Ho qualche problema con i Jekyll! Un colpo sovraccarico con la pistola al plasma neutralizzerà gli scudi! Funziona anche con i Brut! Ah sì? Dov'eri un minuto fa? Ancora intrappolata nella capsula! Ho capito! Devo superare questa porta! Deve esserci un interruttore da qualche parte! Siamo bloccati! Taglia per questo edificio e attaccali alle spalle! Al riparo, soldato! I cecchini ti faranno fuori! Buck! Posizione! Ci sono quasi! Qualche problema? Nemici si avvicinano alla mia capsula! Ascoltami bene! Se non dovessi farcela... Ehi! Basta così! Arrivo subito! Troppo tardi! Mi hanno vista! Maledizione! No! Veronica! Dimmi qualcosa! Non muoverti! Sto arrivando! Calciatori! Oh no! Perché proprio adesso? Voltatevi, bastardi! Così posso colpirvi alla schiena! Attenzione, viaggiatori! Oggetti smarriti... A livello inferiore! Ecco la capsula! Ora devo scendere! A tutti gli interessati! Precarsi agli oggetti smarriti! Livello inferiore! Veronica! Sono qui! Versaglio mancato! Quest'area è il Mano e Covenant! Stai attento! Grazie per il pensiero! Da morto non saresti d'aiuto a nessuno! Squadra! Rapporto situazione! Mi senti, Buck? Sì! Dammi un attimo! Atterraggio duro! Il mio portello non si apre! E il tuo? Funziona! Bene! Hai finito di perdere tempo! Servi aiuto! Dove ho sbagliato? Sai qual è il mio unico rimpianto? Non sapevo fossi dei servizi segreti al nostro primo incontro! Altrimenti avrei tenuto a bada il mio fascino! Ecco cosa mi mancava di te, Buck! Che non attivi mai il cervello prima di parlare! Il mio lavoro non c'entra! Abbiamo deciso insieme di finirlo! Sono passati tanti anni, Veronica! Non ricordo i dettagli! Chissà quanti altri idioti avrei trovato! Per chi hai scelto me per questo safari? Perché sei il miglior soldato che conosca! E poi... Davvero non ricordo! Quella notte! Ciò che mi chiedesti il mattino dopo! Ricordo che non mi hai risposto! Come hai detto, Buck! Non ti sento! Ho detto di restare lì! Arrivo! Eccomi! Sono qui! Oh no! Oh! Oh! Che diavolo era? Hai mai visto niente del genere? Ehi, Romeo! Mi senti? Ah, ho capito! Permesso di parlare, simpaticone! No, non so cosa fosse! Ma ti avrebbe ridotto piuttosto male! Proprio come è successo al capitano! Già! Può essere! Notizie di Mickey? Dutch? Negativo! La recluta! Dobbiamo salire e collegarci alla rete! Un nostro drone deve aver visto dove sono atterrati! E dimentichiamo la missione della tua amica! Ti ha detto cosa voleva fare? No! Mai! Non importa! Ora voglio solo far uscire i miei uomini da questa città! Te incluso! Ciao!